A inizio anni 2000 era tra le modelle più ricercate al mondo. Fernanda Lessa sembrava avere tutto, ma averissimo racconta il momento più duro della sua vita, quando era incinta di Vittorio Mango, il suo ex compagno. All'ottavo mese mi hanno detto che il bambino aveva una deficienza cardiaca, che lo avrebbe costretto ad avere trapianti di cuore ogni sei mesi. Nonostante questo, Fernanda ha portato a termine la gravidanza, ho dato comunque alla luce il nostro piccolo angioletto, ma poco dopo l'ho toccato ed era un pezzo di ghiaccio. Inizio, sapendo il dolore che avrebbe provato, tentarono di fermarlo. Non fecero in tempo. Non dimenticherò mai l'odore dei suoi capelli. Silvia Toffadino, ascoltando il racconto drammatico della modella, è scoppiata in lacrime in studio. Adesso Joachina e il nostro piccolo angioletto ha concluso Lessa con la voce rotta dal dolore.